Presidente, come si spiega questo ritrovamento sempre più frequente di tartarughine a largo delle coste di Ischia o della penisola sorrentina e poi qual è la vostra azione? Le cause della crescita del numero di tartarughe e di nidi lungo la costa è un fattore molto positivo ed è il risultato di un'opera che da molti anni stiamo conducendo e conduciamo in collaborazione anche con numerose associazioni ambientaliste, Marevivo, WWF e quant'altro per proteggere i nidi che molto spesso venivano anche danneggiati perché non venivano segnalati e basta solo sdraiarcici sopra con un telo da mare per uccidere quello che ci sta sotto, in alcuni casi almeno. La protezione di questi nidi oltre al fatto che in alcuni casi piccoli presso il nostro nuovo centro di studio e ricerche salvaguardia delle tartarughe a Portici, il più grande centro per lo studio delle tartarughe del Mediterraneo che è aperto anche alla visita al pubblico e nel nostro centro vengono anche i casi particolari nutrite per un anno per aumentare la loro possibilità di sopravvivenza. Noi sappiamo poi che per ogni tartaruga salvata questa dopo qualche anno tornerà sulla stessa spiaggia a deporre altre uova e altre decine, centinaia di piccoli possono querire. Le nostre ricerche poi si ampliano anche su tutto quello che è il danneggiamento delle tartarughe, ad esempio gli incidenti con le barche quando vengono tagliate da elico, rimangono ferite o intrappolate nelle reti. Quando vengono riportate a noi dai pescatori, sappiamo che noi siamo il centro autorizzato per la campagna, facciamo corsi anche per il Lazio e sosteniamo un po' tutto il mezzogiorno in questo senso, noi aiutiamo queste tartarughe presso il nostro, chiamiamolo, ospedale di Portici a recuperare il miglior stato di salute e poi vengono rilasciate a mare. Presidente, nei nostri mari purtroppo è presente il fenomeno dell'inquinamento da plastica. Quali sono i rilievi che avete fatto e quali dovrebbero essere le soluzioni? Il problema della plastica è un problema che comincia a essere chiaro ed emergente. Noi abbiamo fatto diversi rilievi sia in ambiente costiero che in ambiente profondo. Purtroppo è proprio nelle maggiori profondità degli oceani che si accumula la maggior parte della plastica, ma questa non è una notizia buona per noi perché poi questa materia della plastica entra nei pesci e può tornare a noi quando andiamo a pescare. La maggior parte del pesce che mangiamo viene pescato alle maggiori profondità, non vive sotto costa. Tutti ad esempio i pregiatissimi gamberi rossi vengono pescati dai 300 ai 600 metri di profondità e vivono e si riproducono fino a oltre 1.500 metri di profondità. Quindi il problema della plastica è un problema emergente. L'unica soluzione per quanto ne sappiamo noi è quella di limitare l'input della plastica. Ma stiamo lavorando anche con il Dipartimento di Biotecnologie Marine per trovare il modo per rendere, da un lato per trovare delle bioplastiche di origine marina che possano sostituire la plastica e quindi non inquinare, ma dall'altro anche per accelerare la degradazione della plastica in mare grazie a particolari ceppi batterici.